Ok, diavoletti, siamo a Disneyland ed è una giornata bellissima, solo che adesso non vedo più Anto, quindi se volete che Anto riappara, lasciate un mi piace. Oh, Michi! Ce l'avete fatta? Adesso sei qui, grazie, diavoletti. Io ero proprio laggiù, come sono tornato qui? Aspetta, adesso la situazione si fa molto più seria, cosa stavi facendo laggiù? Niente, comunque oggi salutiamo, salutiamo Valentina. Ciao, Valentina. E se volete essere salutati nel prossimo video, lasciate un mi piace. Esatto, e commentate qui sotto, cercate di commentare molte più volte così potrete essere notati di più. Ok, diavoletti, guardate, lì c'è il castello, vi piace questo castello? Wow, diavoletti, guardate. Questo veramente è molto magico, vero, Vinci? Ok, diavoletti, adesso stiamo camminando ed è veramente super bellissimo. Oggi non succederà nulla di strano. Vinci, guarda, guarda! Il castello sta brillando. Davoletti, guardate. Guardate, sta brillando. Che bello. Sì, il castello sta proprio brillando. Ma adesso andiamo avanti, sbrigati. Oh, Vinci, dove vai? Ci stiamo divertendo, ci stiamo divertendo. Guardate che bello il castello. Vinci, vogliamo scattare una foto insieme? No, io voglio andare a fare shopping. Ma quale shopping? Vinci, dove vai? Diavoletti, Vinci vuole fare sempre shopping. Oh, guardate l'acqua, è super bellissima. Ok, attenzione, la telecamera potrebbe cadere nell'acqua? Vinci! Oh, dove vuoi andare? Oh, no. Vinci, aspetta, aspetta. Oh, no, sta entrando in un negozio. Vinci, aspetta. Prima di entrare, scegli sinistra o destra? Sinistra. Shopping? Hai indovinato. Ok, diavoletti, ci tocca entrare in questo negozio. Oh, no. Vinci, non voglio fare sempre shopping. Ok. Vinci, cosa vuoi? Cosa hai visto? Dai. Ok, Yanta, scelgo questo. Scegli questo? Guarda che carino. Wow. Questa che mi dice, non credi, andiamo in cassa. Vinci, non puoi pagare e basta. Cosa? Devi fare una challenge. Una challenge? Eh, sì, Vinci vuole proprio questo piccolo peluche. E adesso andrò in cassa. No, non andrà in cassa. Vinci, se lo prendi, te lo compro. Ok, ci sono. Diavoletti, riuscirà a prendere questo piccolo peluche? Certo che ci riuscirò. Oppure cadrà? Secondo voi cosa succederà? Non cadrà. Ok, tre, due... Chissà se lo prenderai. È triste. Vinci è triste. Lo prenderò. Ok, vediamo. Tre, due, uno... Vinci? Hai preso il peluche? Ho proprio preso questo peluche. Guarda. Lo puoi mettere sulla spalla? È bellissimo, non credete? Oh, Vinci ha vinto proprio un piccolo peluche da mettere sulla spalla. Vado in cassa. Adesso sta andando in cassa? Come ha fatto a prenderlo? Ok. Vinci sta andando in cassa, sta andando in cassa. Ma anch'io voglio una cosa, Vinci, anch'io voglio una cosa. Hai visto qualcosa di molto raro? Sì, ho visto qualcosa di molto raro. Venite con me. Cos'hai visto di così tanto? Guarda, questo peluche è molto raro. E adesso lo voglio. No, non puoi andare in cassa e prendere quel peluche come se niente fosse successo, dammi. Perché non posso? Perché fa parte della challenge. Ok, cosa devo fare per ottenere questo peluche? Non puoi neanche toccarlo, lascialo. Ok, per ricevere questo peluche molto raro, dato che è molto raro, è molto difficile. Quale? Aspetta, fammici pensare. Ci sono destra o sinistra? Devo scegliere una parte e devo scegliere la parte in cui c'è il peluche? Esatto, proprio così. Il peluche si trova a destra oppure a sinistra. Boh? E io che ne so, Vinci, che ne so? Beh, dai. Sinistra? Ehm, no, sbagliato. Come no? Non è il peluche, ma è una giostra. Dobbiamo andare a fare una giostra? Sì, hai scelto proprio un'attrazione, quindi adesso... Ciao, ciao peluche raro di Spider-Man. Dammi subito questo peluche. No, non hai vinto questo peluche. Non l'ho vinto? Hai scelto la giostra, no. Diavoletti, perché ho scelto la giostra? Perché ho scelto la giostra? Quindi, mentre il peluche che ho vinto io è qui ed è bellissimo, il tuo posto. Diavoletti, io non ho vinto e Vinci ha vinto? Sì, perché tu hai scelto la giostra? Guardate! Diavoletti, guardate il peluche di Vinci sulla sua spalla. Date un nome a quest'animaletto. Commentate qui sotto. Come dobbiamo chiamare quest'animaletto? Ma adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo andare a fare la giostra? Andiamo a fare la giostra? Anche se sono molto triste. Io volevo scegliere il peluche, volevo scegliere il peluche. Dai, Anto, non essere triste perché adesso stiamo per fare una giostra. Ci divertiremo tantissimo. Io ti odio, piccolo animaletto. Dai! Diavoletti, date tutti un nome a quest'animaletto. Io guardo tutti i commenti. Ok, diavoletti. Anch'io guarderò tutti i commenti. Dovete scrivere. Adesso non lo diremo a Vinci. È un segreto fra di noi. Dovete scrivere tutti quanti. Odiamo tutti l'animaletto di Vinci. Non ho detto nulla, non ho detto nulla. Andiamo a fare la giostra. Andiamo a fare la giostra. Chissà quale giostra dobbiamo fare. Le montagne russe. Non, Vinci, io non farò le montagne russe. E allora, chissà. Ora vedrete tutti quanti. Io e Vinci fare una giostra. Quindi restate con noi perché sarà veramente molto epico. 3, 2, 1. Stiamo per fare la giostra di Peter Pan. Ok, andiamo. Vinci. Io non vedo l'ora e tu non vedi l'ora, vero? Porterai? Porterai anche il tuo piccolo animaletto? Sì, è proprio qui. Oh, diavoletti porterà anche il suo piccolo animaletto. Diavoletti, stiamo per fare una giostra perché io ho scelto la giostra. Ok, andiamo. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ok, stiamo per fare una giostra. Adesso saliremo proprio su una barca. Eh sì, la barca di Peter Pan. Wow. Vinci, quando viene la nostra barca? Non lo so, forse... Eccola. Saliamo sulla barca. Eh sì, siamo sulla barca di Peter Pan e c'è anche l'animaletto. Wow. Piccolo animaletto, ok. Sta partendo. Vinci. Oh, guarda. Diavoletti. Adesso vedremo il mondo di Peter Pan. Guarda, sotto di noi c'è una piccola città. Wow. Wow. Ok, Vinci. Wow. Diavoletti, guardate, siamo in una stanza. Oh. Guarda quel cane gigante. Ciao. Ok. Wow. Vinci. Oh. Adesso dove stiamo entrando? Oh. Vinci. È così piccolo. Sì, siamo in una città. Diavoletti, stiamo facendo una giostra super bella. Siamo in cielo. Wow. Siamo proprio in cielo, guardi. Sì, siamo in cielo con la barca. Ok, adesso non si vede nulla. Non si vede nulla. Wow. La città. Oh, le mie unghie si illuminano. Wow. Vinci, è super bellissimo. È lì. È super bellissimo. Oh, lì c'era la luna. Sì. Oh. Qui c'è. Aiuto, non si vede nulla. Lì c'è un'isola. Diavoletti, siamo arrivati su un'isola. Siamo proprio arrivati su un'isola. Ok. Vinci. Wow. Voglio toccare quel vulcano. Non ci riesco. L'arcobaleno, l'arcobaleno è bellissimo. Oh, l'arcobaleno è super bellissimo. Wow. Oh, stiamo atterrando. Ok, diavoletti, adesso ci sono solo stelle. Non lo so, Vinci. Dove stiamo andando? Cosa? Sì. Qui c'è un teschio. Wow. Vinci, guarda, lì c'è Peter Pan. Diavoletti, commentate qui sotto. Con un cuore rosso, se vi piace, Peter Pan. Ciao. Oh, stanno combattendo. Ok. Sono stati rapiti. Stiamo andando sempre avanti. Stiamo andando sempre avanti. Ciao. Oh. Wow. Bellissimo. Ciao, spugna. Un coccodrillo. Un coccodrillo. Ok, Vinci. La giostra sta per finire. Ok, è finita. È stato bellissimo. Non credi, animale. Sì, è stato bellissimo. Vinci, ma aspetta. Vedi anche tu un mercoledì? Cosa? Vinci, mercoledì è qui? Mercoledì, cosa ci fai qui? Vinci, hai visto mercoledì? Ok. Adesso dobbiamo uscire. Vinci, scappa. Scappa. Non capisco, non capisco. Vinci, scappa. Ok, stiamo uscendo, stiamo uscendo. Vinci, scappa, scappa. Ok, stiamo scappando, stiamo scappando. Cosa? C'era proprio un mercoledì. C'era un mercoledì. Cosa ci faceva lì? Non capisco perché c'era mercoledì proprio lì? No, diavoletti. Mercoledì ci sta seguendo anche a Disneyland. Ok. Mercoledì è qui. Scappiamo, Vinci, scappiamo. Ok, ho veramente molta paura. Avete visto tutti i mercoledì? Vinci? Mercoledì è lì sopra. Portate, diavoletti. Mercoledì è lì sopra? Vinci, mercoledì ci sta spiando, ci sta spiando. Cosa? Mercoledì ci sta inseguendo, letteralmente? Sì. Vinci? Adesso è davanti a noi? Vinci, mercoledì è davanti a noi. Portate, diavoletti. È lì. Sta camminando, sta camminando. Ok, cosa vuole da noi? Cosa vuole? Ok, Anto, perché sta continuando a camminare e non si ferma? Dobbiamo scappare. Ok, diavoletti, siamo scappati. Noi dobbiamo scappare e adesso siamo in questa foresta. Qual è il vostro migliore di una foresta per nascondersi? Mercoledì potrebbe rapirsi, dobbiamo nascondersi. Oh no, io non voglio essere rapito da mercoledì. Corriamo. Diavoletti, mercoledì ci sta seguendo, non capisco. Potete essere anche pieni di noi? Qui c'è un cannone. Diavoletti, guardate, qui c'è un cannone. Non abbiamo tempo. Un po' di divertirci. Vinci, non di qua, di là. Diavoletti, mercoledì sta rovinando la nostra giornata. Ok, perfetto. Qui c'è una caverna. Guardate, diavoletti, qui c'è proprio una caverna. Perfetto per nascondersi, quindi va avanti. Ok, diavoletti. Ok, siamo proprio in questa caverna. Se mercoledì venisse qui sarebbe un po' troppo spaventoso, non credi? Vinci, Vinci. Io ho veramente molta paura. Dov'è il tuo animaletto? Vinci, mercoledì ha preso il tuo animaletto? Oh no, dov'è il tuo animaletto? Vinci sta piangendo perché mercoledì ha rapito l'animaletto di Vinci. Tu odiavi tantissimo il mio animaletto. È stata tutta colpa tua. Vinci, non piangere, non è stata colpa mia. Dove vai? Vinci sta scappando in questa caverna? Non scappare in questa caverna. E se non ti trovassi mai? Diavoletti, perché Vinci sta scappando in questa caverna? Sentite? Chi è che sta ridendo? Non è che mercoledì si trova in questa caverna? Vinci, che fai? Vinci! Non devi scappare! Ok, dove devo andare? Di qua o di qua? Diavoletti, Vinci? Vinci! Avete visto? Vinci era proprio qui. Vinci era qui. Vinci! Oh no! Vinci, perché sta scappando in questa caverna? Ok. Sentite qualcuno piangere? Ssh! E Vinci? Vinci? Sei tu? Perché stai piangendo? Vi vuoi il tuo animaletto. Non ti preoccupare Vinci, non piangere. Ma adesso siamo in questa caverna e dobbiamo nasconderci da mercoledì. Che c'è? Ssh! Senti anche tu qualcuno ridere? Di qua, di qua! Vieni! Dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Tanto, e se ci fosse mercoledì qui? Dobbiamo scappare, non siamo al sicuro in questa caverna. Vieni Vinci, vieni. Ok. Diavoletti, dove dobbiamo andare? Di qua? Andiamo da questa parte. Sei proprio sicuro? Ok Vinci. Oh, questa caverna è molto spaventosa. Vinci! Mercoledì! C'è mercoledì lì, guarda! Mercoledì! Cosa ci fai in questa caverna? Diavoletti, mercoledì è in questa caverna? Ci sta continuando a seguire. Mercoledì, smettila di seguirci! Vinci, si sta avvicinando! Vinci! Scappiamo! Oh, stavo per scivolare! Oh, si scivola! Vinci, questa caverna è bagnata, si scivola! E' ovvio, guarda Vinci, non ho cascata! Oh, ma adesso come troviamo la via d'uscita? Come troviamo la via d'uscita? Aiuto! Aiuto! Qualcuno ci aiuti! Mercoledì Adam ci sta seguendo! Aiuto! Vinci, dov'è l'uscita? Ok, abbiamo trovato l'uscita! Abbiamo trovato l'uscita! Adesso dobbiamo solamente correre. Io ho veramente paura di mercoledì. Ok Vinci, ok. Io sono veramente molto spaventato. Anch'io? Vinci? Chi è che ci sta chiamando? Senti! Sono qui! Chi sei? Non lo so! Mercoledì è nell'acqua! Nell'acqua? Mercoledì è nell'acqua! Guardate diavoletti! Mercoledì è proprio nell'acqua! Cosa? Mercoledì è dentro l'acqua? Cosa ci fai lì? Cosa ci fai nell'acqua? Ah! Vinci! Cosa è successo? Qualcuno ha tirato mercoledì? Sott'acqua? Vinci, non so, forse mercoledì è stata mangiata da un coccodrillo? Cosa? Quindi mercoledì adesso? È scomparsa! Oh! Quel coccodrillo ha mangiato? Mercoledì! Ok! Mercoledì è scomparsa! Mercoledì è proprio scomparsa! Anche se è successa una cosa veramente molto spaventosa ma adesso noi continueremo a divertirci come se niente fosse successo! Cos'è successo? Hai visto mercoledì in acqua? Non ho visto mercoledì in acqua! Nessuno! Nessuno ha visto mercoledì? Diavoletti, per caso voi avete visto che qualcuno ha tirato mercoledì sott'acqua? No! Continuiamo a divertirci in questo parco giochi stupendo! Anto! Che c'è? Ma quindi adesso è mercoledì? Non lo so Vinci dove è ma non mi interessa! Dai vieni! Dovremmo indagare! Vinci no! Io non voglio indagare! Voglio andare a divertirmi! Posso? Mercoledì potrebbe continuare... Mercoledì si nasconde qui dentro! Vieni con me! No, non c'è nessuno qui dentro! Vieni dai vieni! Guardate diavoletti! Lì ci sono dei personaggi! Forse accanto c'è anche mercoledì! Vinci! Forse hanno salvato mercoledì con una barca? Io non vedo mercoledì lì Anto! Secondo me mercoledì si trova ancora nelle profondità! Ok! Voglio aiutare mercoledì! Ma chi sono questi personaggi? Li riconoscete? Commentate qui sotto! Aspettiamo i vostri commenti! Ok! Non c'è nessuno su questa barca! Quindi non hanno salvato mercoledì! Ma adesso vieni! Guarda cosa hai visto! Vinci! Cos'hai visto? Cos'hai visto? Diavoletti! Vinci dove sta andando? Ok! Stiamo esplorando questa zona! Restate con noi perché stiamo esplorando questa zona super magnifica! Ok! Speriamo di non rivedere mercoledì! Quanto passò? Vieni! Devo venire? Dove mi sta portando Vinci? Vinci dove stai andando? Ha un posto molto speciale! Un posto molto speciale? Mi piacerà tantissimo! Seguiamo Vinci! Che freddo! Questo è un ponte sospeso? Di forza Anto! Tu sei il primo! Vinci! Non ci vado per primo! Ok! Allora diamoci la mano e andiamo insieme? Ok! Diavoletti! Questo è un ponte sospeso? Vinci! Ci vado prima io! Vinci! Guarda! Questo ponte si muove! Ok! Vinci! Aiuto! Vinci! Questo ponte si muove! Ma è bellissimo! Non credi? Ok! Andiamoci! Vinci! Non venire anche tu! Perché? Io voglio anche saltare! Ok! Vinci! Aiuto! Vinci! Questo ponte si muove! Ok! Dobbiamo fare molta attenzione! Ma è divertente! Saltiamo! Vinci! Non saltare! Non saltare! Perché no? Mi hai fatto fare male! Scusami! Va bene! Non saltare! Ok! Stiamo per arrivare alla fine! Perché continui a saltare? Perché è divertente! Ecco perché è un posto così speciale! Sono arrivato alla fine! Ah sì! Anch'io! Ok! Comunque adesso siamo proprio qui! Diavoletti! Siamo proprio qui! Ok! Qui mercoledì non ci troverà mai! No! Mercoledì non ci troverà mai qui! No! Siamo su una vetta! Diavoletti guardate! Vinci! Non ci troverà! Vinci! Senti anche tu qualcuno piangere qui dentro? Senti! C'è qualcuno che sta piangendo in questo posto! Diavoletti! C'è qualcuno che sta piangendo! Di chi si tratta? Ok! Vinci! Non è che è la mano di mercoledì? Cosa? La mano di mercoledì? Diavoletti! Che c'è qui dentro? Che c'è qui dentro? Perché sta piangendo? Forse dobbiamo controllare? Ok! Controlliamo! Secondo voi chi c'è qui dentro? Cosa? È la mano di mercoledì? Si trova proprio questa spazzatura! Ok! Mano! Cosa ci fai qui dentro? Mercoledì è sparita! Non trovo più mercoledì! Cosa? Mercoledì è sparita? E non trovi più mercoledì? Seguitemi! Seguitemi! Dove è andata la mano? Ha detto seguitemi! Perché dobbiamo seguire la mano? Vinci! Ma adesso dov'è? È sopra la tua testa! Cosa? La mano è sulla tua testa? Scendi! Scendi! Vinci! È andata via! La mano è andata via? Adesso dov'è? Dobbiamo seguire la mano! Chissà dove ci porterà? Secondo te dove ci porterà? Forse ci porterà da mercoledì che si trova negli abissi! Vinci! Dove vuole portarci la mano? Perché la mano ha detto di seguirla? Non lo so! Oh! La mano è lì! La mano è lì? Vinci! Dobbiamo seguire la mano? Ok! Seguiamo la mano! Diavoletti! La mano è proprio lì! Ok! Andiamo sempre avanti! Dobbiamo seguire questa mano! Secondo voi dove ci porterà? Chissà dove sta andando la mano! Vinci! Seguiamo la mano! È andata proprio da quella parte! La mano è andata in questa caverna molto buia! Vinci! Guarda! È lì! Adesso la mano è lì! Quindi dobbiamo entrare in questa caverna! Vinci! Ok! Andiamo insieme! Andiamo insieme! La mano sta scendendo tutte queste scale! E se mercoledì ci attaccasse? Vinci! Noi dobbiamo seguire la mano! Perché la mano stava piangendo! Perché ci sono tutte queste scale! La mano dov'è? Ok! Diavoletti! Stiamo scendendo tutte queste scale! Stiamo passando tutta la notte a Disneyland! Sì! Ma adesso dobbiamo continuare a seguire la mano! Oh! La mano è lì! La mano è lì! Eccoci! Vinci! La mano è lì! La mano è proprio lì! Guarda! Ok! Continuiamo a seguire la mano! Ok! Scendiamo le scale! Scendiamo le scale! Oh! Dove è andata? Diavoletti! Dove è andata la mano? Hai visto dove è andata? Da questa parte o da quest'altra? Vinci! Forse qui? Eh! Dobbiamo continuare a scendere queste scale? Sì! Ma aspetta! Qui è molto spaventoso! È molto buio! E potrebbe nascondersi mercoledì! Che potrebbe uscire! E... Ah! Vinci! Andiamo! Ok! Stiamo andando sempre avanti! Vinci! Corri! Corri! Eh! Mano! Dove sei? Mano! Da che parte sei? Mano! Eh! La mano è proprio! Lì? Ok! Ok Vinci! Andiamo lì dentro! Andiamo lì dentro! La mano era proprio qui! Era qui! Ok! Diavoletti! Aprite bene gli occhi! Qui potrebbe esserci qualcuno! Ok! Ok Vinci! Andiamo sempre avanti! Andiamo sempre avanti! Questo è molto spaventoso! Vinci! Ho visto la mano! È lì! È lì! Vieni! Diavoletti! Dobbiamo seguire la mano! Ok! Vinci! La mano è proprio lì! Vieni! Vieni! Ok! Diavoletti! Mancano ancora tantissime scale! La mano è qui! Ok! Sempre scale! Ancora scale! Ehi Mano! Quando arriveremo a destinazione? Ok! Mano dove? Vinci! La mano ci ha portati vicino! Queste tombe! Cosa? Vinci! Queste sono tombe! Ok! Ok! Sto iniziando! Vinci! Venite a vedere Diavoletti! Venite a vedere! Ok! Vinci! Guarda! Questa è una tomba! Vinci! Guarda! Cosa? Vinci! Io ho veramente molta paura! Perché la mano di Mercoledì ci ha portati in un cimitero? Non lo so! Ok! Andiamo sempre avanti! Guardate Diavoletti! Questa è una mini bara! Vinci! Vieni con me! Vieni con me! Vinci! Guarda! Sono proprio tombe! Sì! La mano di Mercoledì ci ha portati in un cimitero! Che c'è? Senti! C'è un lupo? O mi sbaglio? Vinci! Senti! Sì! Un lupo! Ok! Vinci! Guarda quante tombe! Guarda! Diavoletti! Ci sono tantissime tombe! Forse ho capito! La mano di Mercoledì ci ha portati qui perché vuole farci vedere... Eh? Vinci! Vuole farci vedere la tomba di Mercoledì! Sì! Ok! Perché qui c'è la tomba di Mercoledì! Non lo so Vinci! Guarda! Qui c'è un'altra tomba! Qui c'è un'altra tomba! Siamo proprio in un cimitero! Sì! Tu vedi la tomba di Mercoledì? No? Questa non è la tomba di Mercoledì! Ok! E qui chi c'è? Altre tombe! Diavoletti! Qui ci sono altre tombe! Ok! Vinci! La tomba di Mercoledì! Adams! Dov'è? Non lo so! Andiamo sempre avanti? Vinci! Guarda! Qui c'è la tomba di Mercoledì! È proprio la tomba di Mercoledì! Mi dispiace davvero molto! Ma perché c'è la tomba di Mercoledì qui? Non capisco Vinci! Mercoledì? C'è proprio scritto Mercoledì! Eh sì! C'è proprio la faccia di Mercoledì! Guarda la mano! Sta piangendo? Sì! Oh! Mano! Mi dispiace veramente molto! Possiamo fare qualcosa per te? Mano! Non piangere! Mano! Non piangere! Calmati! Dai! Mano! Non piangere! Riporteremo indietro Mercoledì! Riporteremo indietro Mercoledì! Ci dispiace tantissimo! Dai! Non piangere! Oh! Sta continuando a piangere! Oh no! Oh no! Siamo proprio vicini alla tomba di Mercoledì! Ed è molto... Triste! Sì! E' triste diavoletti, voi cosa ne pensate? Ok, mercoledì noi ti riporteremo indietro Troveremo un metodo per riportarti indietro In che modo? Già, Vinci, ok, dobbiamo... Cosa? Una notifica? Chi è? Una notifica? Controlla Eh? Allora chi è? Vinci, guarda, guarda Cosa? Cosa c'è scritto? Per riportare indietro mercoledì Dovete trovare i tre oggetti rari Che disegnerò? Mano? Cosa? Ma era proprio qui Mano, dove sei? Mano? I tre oggetti rari che disegnerà la mano? Eh sì, oh, mi dispiace molto per la mano Anto, hai visto? Stava piangendo proprio tantissimo Ok, dobbiamo trovare i tre oggetti rari che disegnerà la mano di mercoledì Dai Mano, ti stiamo... Dici, il primo disegno! Ok, qual è? Dici... Il primo oggetto da trovare è una tazza con la lettera M Dove troviamo la tazza con la lettera M? Vinci, la tazza con la lettera M dobbiamo trovarla perché la M è l'iniziale del nome di mercoledì Bene, iniziamo a cercare forse... Vinci, qui ci sono le tazze, qui ci sono le tazze Ok, questa è una tazza di Olaf Non c'è una M qui? Qui c'è una M? No, non c'è una M Vinci, qui? No Vinci, non c'è una M Diavoletti? Dov'è la M? No, qui c'è Olaf Diavoletti? Dov'è la tazza con la lettera M? Vinci, noi dobbiamo salvare mercoledì e per salvare mercoledì dobbiamo trovare tutti e tre gli oggetti disegnati Aspetta un attimo Che c'è Vinci? Proprio... Ci sono tantissime lettere Qui c'è la lettera A Diavoletti c'è anche la lettera B, la lettera D, la lettera E Vinci, vediamo Forse qui troveremo anche la lettera M Aspetta, vediamo un attimo, vediamo un attimo Vinci, guarda, la lettera B Che bella! Ma Vinci, dobbiamo trovare la lettera M Dov'è la lettera M? Vinci, guarda M Diavoletti, abbiamo trovato la lettera M Diavoletti, che bello, abbiamo trovato il primo oggetto Abbiamo trovato il primo oggetto per risvegliare mercoledì Ok, qual è il secondo? Vinci, il secondo oggetto è la collana di mercoledì Vinci, non lo so Ok, qui ci sono tantissimi peluche Controlliamo? Vinci, no, questo è Dumbo, non è la collana di mercoledì Lo so Aspetta, vediamo È soltanto Pluto? Sì È soltanto Pluto, ma non ha nessuna collana Diavoletti Dobbiamo trovare la collana di mercoledì? Chissà dove è la collana di mercoledì Oh, che carino Ma non ha nessuna collana Qui c'è una collana? Vinci, non c'è nessuna collana qui Diavoletti, vedete una collana qui? No, non c'è nessuna collana Niente Niente Io voglio far tornare felice la mano di mercoledì, Vinci Anch'io, quindi dobbiamo trovare i tre oggetti Guarda No, non ha nessuna collana Dov'è la collana di mercoledì? Ok, controlliamo qui, c'è qualche traccia della collana di mercoledì? No, Vinci, non indossa nessuno la collana di mercoledì Sono soltanto peluche mini Sì, sono soltanto peluche più piccole Controlliamo, anto la collana Vinci, qui c'è Stitch Ciao È qui? Topolino con un cappello? Mentre qui c'è Topolino in bianco e nero Oh, diavoletti, guardate, sono peluche molto rari Dobbiamo trovare la collana? Dove sarà la collana? Vinci, vieni Ok, magari fra questi portachiavi si nasconde la collana? No, questo è soltanto un alieno Vinci, guarda che bello questo Oh, è un Topolino molto carino Ratatouille, ma non è la collana Qui c'è Tri Dov'è la collana di mercoledì? Vinci, ho visto la collana, guarda Guardate, diavoletti La collana è qui dentro Vinci, abbiamo trovato la collana Secondo oggetto trovato Ok, adesso cosa ci manca? Qual è il terzo oggetto? Il terzo oggetto Cosa? Il terzo oggetto da trovare? È il telefono di mercoledì Diavoletti, dobbiamo trovare il telefono di mercoledì? Ci sono Che c'è? Mercoledì prima, ti ricordi? Sì È caduta in acqua Eh? Quindi il telefono è vicino quel lago Dobbiamo andare a controllare vicino quel lago? Andiamo, corri Ok, usciamo da questo negozio Usciamo subito da questo negozio Vinci ha ragione Secondo me il telefono è proprio vicino quell'acqua Andiamo Vinci, andiamo Ok, dovrebbe essere proprio qui Ci siamo avvicinati, ci siamo avvicinati al lago Guardate Ci siamo proprio avvicinati a quell'acqua Ok Vinci, controlliamo, controlliamo Vedi anche tu un telefono lì? Sì Guarda, guardate Diavoletti, guardate Diavoletti, guardate È proprio il telefono di mercoledì? Diavoletti, lo vedete? Sì, guardate, è proprio lì Wow Abbiamo trovato il terzo oggetto E vai, missione compiuta Quindi questo significa che è mercoledì È di nuovo qui? Sì Mercoledì è di nuovo qui Esatto Ok Andiamo a cercare mercoledì? Ok Mercoledì dove sei? Forse è sotto questa sedia Mercoledì? Mercoledì dove sei? Abbiamo compiuto la nostra missione Dove è mercoledì? Vinci, vieni, vieni Mercoledì dove sei? Vinci, dove è mercoledì? Io voglio rivedere mercoledì Tutti vogliamo rivedere mercoledì? No, non c'è nessuno Vinci, ho visto mercoledì, vieni Guardate Diavoletti Mercoledì è lì che sta ballando Cosa? Diavoletti, mercoledì è proprio qui Vinci, la mano è sulla tua testa La mano ti sta ringraziando? Sì, ma io sono molto triste Perché sei molto triste? Il tuo animaletto Dov'è il tuo animaletto? Diavoletti, vi ricordate dell'animaletto di Vinci? Cosa? Vinci, il tuo animaletto Diavoletti, guardate L'animaletto è proprio tornato Cosa? Mercoledì mi ha restituito l'animaletto? Tanto secondo me questa è una ricompensa Perché noi abbiamo aiutato mercoledì Che bello Ciao Ciao Noi controlleremo sempre il nome del nostro animaletto qui sotto Infatti come dobbiamo chiamare quest'animaletto? Noi controlleremo sempre il nome del nostro animaletto qui sotto